guarda che stupida ho imparato che quando dormono tanto quasi troppo non devo esultare non devo esultare dire che bello così troppo anch'io faccio le mie cose no no sbagli povera illusa perché poi te la fanno pagare perché poi dopo non dormono più quindi quando dormono troppo non sarei così felice perché poi ci sono giusto un po di pacchi da aprire giusto due o tre che carini che siete gnomono no no il team di pandora mi ha regalato poi questa collanina personalizzata sopra la mostra sul cuore c'è incisa la e e la f iniziali viene a francesco e dietro la data di nascita comunque tra uno spacchettamento e l'altro diciamo che il cibo è sempre molto gradito e voi mi fate finire di spacchettare eh mi fate finire di spacchettare la sono arrivate le scorte di barrette e di biscotti oro ciocca bene direi benissimo altra sera ho fatto anche un ordine su eceneme e perché devo dire mi sto trovando molto bene con le loro tutine leggerine che uso per stare in casa anche di notte visto che comunque c'è molto caldo in casa e la ceniglia va a sudare troppo quindi mi sto trovando molto bene con queste anche devo dire con i body perché sono molto pratici quindi ho fatto scorta di tutine body 56 centimetri quindi da utilizzare dalla prossima settimana e nell'inizio del mese di novembre e poi sempre 56 centimetri una serie di completini da portare anche in in montagna che sono un po più grandini perché adesso sto usando ancora tutto di 50 52 centimetri anche alcune tutine già non gli stanno più quindi loro ho fatto scorta di taglia 56 e scusate se in questi giorni in queste prime settimane c'è così tanto spam di neonato si parla di neonati si vedono outfit di neonati appigliamento cose ritornerò anche con i miei anche con i miei adesso non ho così tanto tempo di cercare cose mie cose per me però prometto che ritornerò che ritornerò anche a far quello prometto pensavo non ci fosse nulla per me e invece eccoli qua i primi outfit che mi stanno arrivando mi sono arrivate le scelte che ho fatto nelle scorse settimane questo cappotto tra troppo preparati perché porti li porterò con me in montagna idem questi due maglioni questo lì mi piace molto e questo un po più colorato bello e questo abito nero guardate dietro com'è elegantissimo andate così molto molto bello questo non porto in montagna un po più elegante magari con uno stiva ad abbinare con uno stivale più avanti per una serata bello bello